Nella vita il successo si raggiunge sempre con la passione che metti. La nostra passione nel realizzare video professionali nasce molti anni fa. Le prime esperienze realizzate presso teatri, spot pubblicitari, video matrimoniali. In seguito la grande curiosità nasce nell'avvicinarsi al mondo dei droni. Da quel momento la passione aumenta, la capacità nell'eseguire inquadrature perfette ha scatenato la voglia di recensire i borghi, i paesaggi, le bellezze naturali dell'Italia. Tutto ciò ci ha spinto alla creazione del nostro canale YouTube, approfondire le conoscenze dei social, scoprire la loro importanza e ci siamo resi conto che la nostra passione poteva diventare parte delle nostre attività. Da quel momento decidiamo di dedicare gran parte del nostro tempo, la nostra passione, le nostre capacità nella realizzazione di un servizio editoriale digitale, dando estrema importanza all'emozione che sappiamo trasmettere e cercare di lavorare insieme alle persone che condividono il nostro pensiero. Proponiamo video recensioni eseguite con drone o telecamera che sappiano esaltare il vostro brand, i vostri valori, video brevi dalla durata di circa 3 minuti al fine di non annoiare il visitatore, oppure video con commenti in italiano, spagnolo, inglese che raccontano nei particolari la vostra storia, la vostra produzione, i vostri obiettivi. Siamo convinti che centralizzare ogni produzione su un unico canale YouTube garantisce una maggiore visibilità a tutti, con maggiore possibilità di incrementare i propri clienti. Le stesse produzioni video ovviamente possono essere visualizzate nel vostro canale, sul vostro sito, nei vostri social. L'amore che proviamo per questa attività ci porta anche a dedicare del tempo gratuitamente per spiegare produzione, post-produzione, ad associazioni, gruppo di anziani, di portatori di handicap. E chissà, un domani se ci verrà chiesto saremo disponibili anche a lezioni presso scuole. Oggi riteniamo che il marketing aziendale non può fare a meno di una presenza nel mondo Internet. Milioni di utenti tutti i giorni eseguono ricerche su Google, visionano video su YouTube. Tutto ciò rende i social un canale pubblicitario gratuito da sfruttare nel modo corretto con la giusta pianificazione. Noi siamo al vostro fianco. Noi siamo al vostro fianco.